Ciao e benvenuto nel nostro canale YouTube LVS, la vera squadra. È stato presentato a Roma alla festa del cinema il film I limoni d'inverno con protagonisti Cristian De Sica e Teresa Saponangelo. In questo film possiamo vedere Cristian De Sica in una veste inedita perché noi siamo abituati a vederlo sempre in ruoli comici e invece in questo film avrà un ruolo drammatico e quindi sarà molto interessante vederlo in queste veste inedite per noi quindi già per questo motivo bisognerebbe vedere il film ed è la storia di un uomo interpretato da Cristian De Sica che vive da solo e fa la conoscenza della sua vicina di casa interpretata da Teresa Saponangelo. I due cominciano a vedersi dal terrazzo e da lì insomma nasce un'amicizia e pian piano nel corso della storia si scoprirà qual è il segreto di ognuno di loro. Insomma quindi penso che sia un film da vedere, interessante e quindi prendete nota i limoni d'inverno con Cristian De Sica e Teresa Saponangelo. Ti raccomando ti invito ad iscriverti al nostro canale YouTube se non l'hai ancora fatto e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui nostri prossimi video in uscita e noi ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao!